Dov'è Jenny? Sta calmo amico, non si può parlare d'affari con un mitra puntato sulla faccia. Tua figlia è viva, colonnello. Dipende da te che continui ad esserlo. La mia gente ha dei conti arretrati con te. E se vuoi rivedere tua figlia, devi collaborare. D'accordo? No. Bennett? Ma non eri morto? Qualche traccia di matri? No signore, solo quei morti. Crede che ce ne siano altri? Ne l'hanno lasciato vivo, credo che ne troveremo molti. Bravo, sei divertente e simpatico. Per questo ti ammazzerò per ultimo. Ah, per favore, non disturbare il mio amico, è stanco morto. Si decide a contarmi tutto oppure no? No. Dov'è Jenny? Fottiti tu e lei. Non ho sentito. Te lo dirò più forte, fatti fottere. Senti, la tua fedeltà è commovente, ma in questo momento non è la cosa più importante della tua vita, perché la cosa più importante è la legge di gravità. Per onestà devo confessarti che questo è il mio braccio più debole. Non puoi ammazzarmi, se vuoi sapere dov'è tua figlia. Allora dov'è? Io non lo so, ma lo sa Cook, ti porto dove devo incontrarlo. Non mi ci porterai. Ma perché? Perché so già dov'è.